Presidente Zeratore, siamo alla vigilia o quasi di una nuova stagione agonistica che poi partirà di fatto il primo luglio con l'ufficializzazione dei contratti, delle trattative che si stanno avviando in questi giorni. Ecco, una domanda che le faccio subito è, ma tanti nomi sono circolati, ma qualche firma c'è stata? Ovviamente non mi dirai il nome perché anche se possiamo ipotizzarlo. Sì, ma sicuramente noi abbiamo già degli accordi definiti con alcuni giocatori, sia under che over. Gli over sono alcuni dei giocatori che hanno già giocato qui a Taranto nella passata stagione. Gli under sono under ex novo che noi stiamo individuando grazie al lavoro certosino fatto da Franco degli Santi e da Aldo Papagni e che man mano si stanno accordando in termini poi concreti per quella che sarà la prossima stagione. All'interno della società e ovviamente anche dello staff tecnico di conseguenza, qual è l'atmosfera che si sta respirando in questo momento? Di entusiasmo, di moderato ottimismo? Io mi riferisco al ripescaggio. Ho capito, ma noi siamo moderatamente ottimisti, perché chiaramente al di là di quello che è l'attività che noi stiamo già mettendo in campo con l'attivazione dei processi per preparare la domanda di ripescaggio in tutte le sue forme, in tutti i suoi contenuti, c'è anche da valutare quelle che saranno le possibilità che non dipendono da noi in ordine ai posti che verranno a determinarsi come posti vacanti nell'organico della Lega Pro, trattino da quest'anno Serie C. Per cui qualora i rumors, le notizie ufficiose si dovessero concretizzare di squadre o di società che per qualche motivo hanno difficoltà a perfezionare l'iscrizione alla Lega Pro, sicuramente noi potremmo rientrare in gioco. Ecco, al di là di tutto quello che succederà, che poi dipende sempre anche dal campo e dalle volontà che molto spesso non fanno direttamente riferimento a quelle della società, però ecco c'è un dato che è bene sottolineare, cioè l'impegno nel proseguire questo progetto quinquennale. Siamo al secondo di questi cinque anni e questo è un sinonimo di garanzia, di continuità, di vitalità imprenditoriale sul fronte calcistico. Sì, ma sicuramente è il senso della programmazione pluriennale di cui noi abbiamo pubblicamente parlato già ad agosto, settembre dello scorso anno. È un sistema, il nostro, che ci appartiene, che è quello di programmare nelle pluriennalità. Questo non significa, ripeto, come ho già detto altre volte, posticipare il raggiungimento di determinati obiettivi negli anni. Significa cercare di mettere in piedi un progetto che anno per anno ti possa dare dei contenuti positivi e ti consenta poi laddove è possibile, chiaramente perché poi al di là della volontà della società, poi alla fine in campo ci vanno i giocatori e sono i tecnici che li mettono in campo. Quindi al di là di questo ti consenta poi di raggiungere l'obiettivo sperato che sicuramente è fare campionati che non siano né la Serie D né la Lega Pro che per noi è un campionato di passaggio. Vorrei un attimo soffermarmi adesso sulla campagna abbonamenti perché il messaggio lanciato è quello di rialzare la testa mettendo al centro questo profondo amore che si nutre nei confronti della maglia rosso-blu. C'è un dato, 71 abbonamenti nella prima giornata di campagna. Mi sembra un dato importante, buono, no? Tutto sommato, ecco, lei come lo giudica? Sì, no, sicuramente è un dato importante, è un dato significativo anche perché sta a significare che la città o comunque i tifosi rispondono in maniera positiva. Noi abbiamo più volte detto nelle settimane scorse che auspichiamo un coinvolgimento diretto di tutte le persone che amano Taranto e il Taranto e che sono tante. Sono persone che negli anni hanno subito magari delusioni, frustrazioni, si sono allontanate per vari motivi, però noi riteniamo che nelle cose a cui si tiene, per le cose che si amano ci si debba in qualche modo sacrificare e farsi coinvolgere. In questo momento è importantissimo ed è fondamentale farsi coinvolgere perché noi dobbiamo dare anche un segnale di grande vitalità alla federazione e alla Lega Pro anche in termini di zoccolo duro, di tifosi che sono vicini alla squadra, di tifosi che condividono il progetto societario. Se siamo tutti quanti insieme possiamo dare un segnale positivo che può anche indurre a prendere in maggiore considerazione la città di Taranto rispetto a quanto è avvenuto finora. Una veloce riflessione su quanto è stato fatto finora, da quel fine luglio del 2015 ad oggi, quindi quasi un anno. In questi anni c'è qualcosa, c'è una cosa che non rifarebbe più? Ma sì, ci sono delle cose che probabilmente col senno di poi non rifarei o non rifaremmo come società. Però io credo che come in tutte le attività umane, dalle cose negative poi si deve trarre il giusto segnale che è quello che ti dà l'esperienza. Quindi l'esperienza di quest'anno appena concluso, quest'anno agonistico, calcistico appena concluso sicuramente sarà un elemento di cui far tesoro per il futuro. Per quanto riguarda invece, ecco, qualche argomento a cui i tifosi in questo momento sono particolarmente legati ecco, di quelli che l'anno scorso facevano la rosa del Taranto, quanti rimarranno per l'anno prossimo? Numericamente dai 4 ai 6, più chiaramente ci sono i ragazzi della Juniores o del settore giovanile che saranno comunque aggregati alla prima squadra, perché questo è un altro segnale che noi vogliamo dare quello di inserire gradualmente, per quelle che sono le loro possibilità e le loro capacità e anche la tempistica giusta da dare ai giovani, di inserirli nell'organico della prima squadra. Che cosa si aspetta da questa campagna abbonamenti? Numericamente o sostanzialmente? I numeri sono sempre quelli che parlano in maniera più chiara, no? Ma io, a me piacerebbe arrivare a quota 4.000 abbonamenti, perché credo che sarebbe un segnale importante. Io non parlo dei 9.000 abbonamenti sottoscritti l'anno scorso a Parma, perché probabilmente stiamo parlando di città culturalmente diverse. Però raggiungere quota 4.000 sarebbe un risultato importantissimo, soprattutto a livello di immagine, per quanto riguarda Taranto e la nostra società. Al di là del numero, io voglio che poi tutte le persone che sottoscrivano l'abbonamento, così come tante di quelle che hanno sottoscritto ieri, che poi sono persone con cui abbiamo rapporti di amicizio e di conoscenza, ci hanno chiamato e un amico ci ha detto «Ah, io sono andato a fare l'abbonamento, sono il numero uno, sono felice». Un'altra persona anche ci ha chiamato, un'altra ancora stamattina l'abbiamo incontrato. Quindi che al di là del numero poi siano persone che lo facciano in maniera convinta ed entusiasta. Perché questo è il segnale che noi dobbiamo dare, quello di uno stadio felice, entusiasta, di uno stadio che è contento di essere lì e che qualsiasi sarà il campionato che noi andremo a disputare siano partecipi del progetto. Un'ultima cosa, la città che conta, ecco ci metto un po' di veleno nella coda come si suol dire. Qual è la città che conta? Cosa intendiamo per città che conta? Il mondo imprenditoriale, quello politico-amministrativo, quello che ha spessore dal punto di vista sociale e non solo. Che rapporto ha con il Taranto? La città che conta a livello istituzionale, devo dire che al di là delle prime settimane dell'anno appena trascorso, quindi ci riferiamo ad agosto-settembre 2015, al di là di quelle settimane in cui c'è stato un interesse da parte del livello istituzionale, perché dopo quella data abbiamo registrato una indifferenza probabilmente o una sottovalutazione di quello che il calcio può rappresentare a Taranto. Probabilmente le nostre amministrazioni locali sono prese da altre problematiche ben più gravi probabilmente di quelle sportive e quindi hanno un attimo snobbato la nostra realtà. Così come vedo snobbano un po' tutte le realtà sportive della città. A livello imprenditoriale si registra sempre il solito scenario, abbiamo registrato il solito scenario, quindi un'assenza completa da parte della grande industria e delle grandi aziende, anche perché probabilmente non doverosamente sollecitate dal livello istituzionale, così come avviene invece in altre città, vedi quello che è avvenuto a Carrara con il sindaco che si è fatto promotore del salvataggio, comunque della rinascita della squadra locale, vedi quello che sta avvenendo a Fano dove il sindaco comunque è chiamato a raccolta l'imprenditoria locale per raccogliere il fondo perduto e per fare il ripescaggio in Lega Pro e invece una discreta attenzione da parte dell'imprenditoria locale, quella media e piccola, che invece sostiene il nostro progetto. Quindi sintetizzando la filosofia locale credo sia questa, i grandi non pensano ai piccoli, i piccoli potremmo essere noi, mentre i piccoli sono solidali con i piccoli.